E niente contro il Movimento 5 Stelle, ma la parrocchia non può ospitare nei suoi locali appuntamenti politici. Così Don Baronti, confortato dal Vescovo Tardelli, ha detto la sua su di una vicenda che da giorni sta riscaldando il paese alle porte di Pistoia. Vediamo. L'indomani la diffusione della nota ufficiale della diocesi, Don Pier Giorgio Baronti, ha detto la sua sulla polemica attorno al mancato sì alla festa del Movimento 5 Stelle a Badia Pacciana. Un no, quello espresso dal sacerdote, per l'appuntamento dei pentastellati nei locali della parrocchia del paese alle porte di Pistoia, non legato a spiegato a valutazioni di tipo partitico, ma aderente alla precisa linea della Chiesa. Linea che si spiega nella nota della diocesi, precisa come nessuna struttura usata per servizi pastorali o sociali possa essere concessa per manifestazioni o iniziative politiche di partito. Nei locali parrocchiali, nei circoli parrocchiali non si dà ospitalità a movimenti o a partiti politici, questo indipendentemente da 5 Stelle o no, io non è che ce l'ho con il Movimento 5 Stelle, semplicemente ho detto un no motivato, punto e basta, ecco questa è la realtà. Poi sono venute fuori delle dietrologie, cioè praticamente come se io sapessi e avessi saputo, dicendo questo no, che c'era stata una riunione dove i presenti a questa riunione avevano ipotizzato anche un sì per questa manifestazione. Primo, io non ero stato avvisato della riunione, non ero presente alla riunione, non sapevo della non decisione, ma di un certo sì di questa riunione, quindi io ho detto il mio senza sapere assolutamente niente. Un caso che viaggia tutto sul filo di internet e che ricorda molto nelle dinamiche altri simili avvenuti in parrocchie del Pistoiese. Cos'è? C'è forse qualcuno che vuole creare un po' di zizzania in questa comunità? Ma io questo non lo so, ne voglio pensare, ne voglio crederlo, mi dispiacerebbe, però poi quando si danno determinate interpretazioni a questo no, che per me è motivato indipendentemente da quello che era stato un po' detto in questa riunione, ripeto, a cui io non ero stato, perché questo è molto importante, non ero stato invitato, non ero presente, né sapevo che cosa era stato detto, beh, insomma, se si vogliono dare certe interpretazioni le si diano pure, però ognuno è responsabile poi delle parole, soprattutto che vengono messe per scritto. Io darei volentieri le dimissioni dal parroco di Badia se fosse possibile, ma non perché ce l'ho con i badiani, ma perché se questi problemi devono condizionare la vita di un piccolo paese, di una piccola comunità nei rapporti di un parroco che pur non residendo qui ha la responsabilità giuridica, penale e religiosa, beh, io preferisco fare un passo indietro.